Andiamo invece da un amico, pure che mi ha detto, non ti riconosco, brutta Cesaretto! Io non ti ho detto, ti ho iscritto, ma perché non sapisco italiano e non riusci a scrivere E T9 mi frega sempre, sai, buonasera a tutti Ciao Cesar Ma perché sei così matto? Eh, se non sarebbe io, eh Se non sarebbe io Non sarebbe io, no, però tu l'hai premesso che è l'italiano proprio, niente No, no, ho detto apposta, mi adecco al tuo linguaggio, tranquilla, parli tranquillamente Ma noi per questo ci capiamo, perché io non parlo l'italiano, lui non lo capisce, quindi siamo sulla strada di mezzo Io riesco a capirti, è diverso, io riesco, cioè, ci amico tutta e riesco, perché se no mica è facile Eh, lo so Parliamo di cose serie, dai, non parliamo più di Francesca, dai, parliamo di cose serie Bene, parliamo della Lazio di cose serie Ecco Noi dall'inizio della stagione non ci siamo mai parlati, perché io non ho capito che era successo al tuo telefono A un certo punto ho pensato che ti avessero rapito in Brasile, volevo mettere in mezzo l'ambasciata No, 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 ti rispondevo proprio, tranquilla, no, no Ti rispondevo proprio Bene, scusa se mi ero preoccupata No, no, tutto a posto Tutto a posto Però non ci siamo sentiti dall'inizio di questa stagione, che era partita così e così, insomma, sta andando in campionato molto molto male In Coppa, dove giocheremo domani, diciamo che le cose girano un po' meglio Ti sei fatto un'idea, Cesaretto? Ti faccio le stesse interviste che ho fatto a tanti colleghi tuoi, a tanti interviste che ho fatto all'inizio di stagioni Uguali identiche stesse Addirittura, dall'inizio stagione non hai cambiato idea No, no, guarda, guarda No, no, ma no, perché Guarda, è molto semplice Tu hai l'occasione, cioè, unica, unica Perché si parla di stagioni, no, dopo tutti gli sforzi fatti Riusciti Per fortuna, no, per merito, no Per tutto quello che è successo nella stagione scorsa Tu riesci ad andare a un preliminare di Santos League Tu sei l'unica squadra che non cambia Tu sei l'unica squadra che non investi per cercare di andare in Santos League Tu sei l'unica squadra che ha fatto la Supercoppa del suo paese Con gli stessi giocatori rosa, diranno i precedenti Cioè, tu non puoi andare in Santos League Il problema è ancora più grave Guarda l'Inter, che comunque, bene o male, male o bene Guarda il Milan, bene o male o male o bene Il Napoli, Ciorettina, Roma stessa La Juve stessa che si è ripresa e sta a fare un campionato di stridigione Tutti hanno fatto dei messi importanti Tutti, tutti Tu hai puntato dopo, hai detto che puntava sui giovani Dopo che sei uscito dal preliminare Non lo so, diventa difficile Perché alla fine, eccolo là Era difficile e tuttora, lo è, ripetere le prestazioni dell'anno scorso Perché qualcuno può girare meglio, qualcuno un po' di meno Tanti altri di più e qualcuno neanche Però avere una rosa, avere una squadra Può sempre non essere utile di più Invece tutti trovano questa situazione ora Che era probabile se seguivi questa linea di ragionamento Era probabile che andava così Purtroppo, ma sì Però se lo capiamo noi che siamo fuori Non capiscono loro dentro È ancora più difficile Figurati Però, al netto di tutte le cose che hai detto Che sono assolutamente corrette C'è da dire che comunque la rosa che hai Non giustifica alcune prestazioni E non giustifica il piazzamento che hai oggi in campionato No, dipendi Non giustifica se tu parli di rosa, di piazzare di carta Se tu mi parli di numeri, di fatti Più che giustificabili, purtroppo Perché i fatti non sono stati fatti Cioè, tu non vedi i numeri, tu non crei E diventi una situazione come questa Come ho detto ad ora Sulla carta sì, sulla carta è una bella rosa Una bella rosa per quale oggi è una bella rosa Per stare dove, me lo dici tu Vuoi paragonare a tutte le altre rose Delle altre squadre, come giocano Che ti devo dire, è veramente difficile Perché purtroppo Purtroppo, perché poi ci teniamo Seguiamo la lacce, ma così è Ma siamo anche realisti Non è che uno che ha passione per l'amore Penso che può andare sa dove A battere quale squadra Però è vero che alla fine È un dato di fatto Se tu guardi la rosa del Lazio Sulla carta Poteva far meglio Sì, poteva far meglio E le altre che sono avanti Anche se qualcuno ha anche Con rose più Non dico con nomi Perché poi Sono giocatori comunque Di un livello Sono bravi qualcuno pure forte Ma i fatti, i numeri li fanno loro Tu non lo fai Allora per me è giusto Io sono realisti È giusto Purtroppo mi è giusto Davide? Cesar Ora al di là dei rimpianti Per la stagione Per il campionato Cosa può giocarsi la Lazio In questa Europa League? Quanto ci credi al fatto che Possa davvero Andare lì e arrivare fino in fondo? Guarda Penso che È una competizione A quale tu puoi credere Perché In questa competizione Ha fatto un percorso Comunque Positivo Tuttora lo fai Avrà l'occasione Di decidere Una qualificazione In casa E come sappiamo L'Europa è questa Per fare molta attenzione Se per caso Se per caso Una partita Che non deve essere Pensiamo sempre Positivo Perché comunque Devo pensare C'è la Lazio Qui riesci No? Assieme Sì Sarà una partita bella Una partita bella E poi potrà Decidere comunque Sempre in casa E speriamo Che così Lo sia Che la Lazio Domani A precedenti Chi vada in campo Riesca a dare il massimo Per fare Un passo in più Per arrivare A questo obiettivo Con le scassioni Perché funziona Così In Europa Se vero Tutto quello che dè E' vero Infatti Chi ci spiega Queste cose E come ci spiegano Queste cose E' verissimo Io Mi faccio Le stesse Identiche domande Tu Un campionato Perché sono più partite Perché giochino Il più Perché queste partite Sono preparate Diversamente Sono vissuti diversamente E' quella Grande differenza Delle squadre Che riescono Andare avanti Su tutte le competizioni Fare bene nei campionati E' la mentalità E' la mentalità Di Di sacrificio Di impegno E anche Di un militare Capito Un momento Non E fa un passo indietro Per farsi meno male E riuscire a riprendersi Sono tutti E poi sulla parola Come sto dicendo adesso E' tutto molto facile Allora facciamo così Riusciamo No no Il problema Poi sono i fatti Dentro il campo I comportamenti Le decisioni I impegni messi E non mi da favore Conto Decidono Ma purtroppo è così Purtroppo è così A volte sembra Che anche La giove stessa Scusa se ti interrotto Francesco La giove stessa È iniziata Nel campionato In Champions League Giocava benissimo I partiti In campionato Non era Cioè Inguardabile Perché così lo era Ha fatto 9-10 risultati Per niente Non è che ha fatto Sono scelsi di risultati Che non gli interessavano Per niente Hanno fatto Invece dopo Sono ripresi Sono benissimo Ecco Però è una mentalità È un riprendersi È purtroppo difficile Anche da spiegare Perché dopo Ognuno avrà la sua opinione Ognuno penserà Il modo suo Però alla fine Quelli fatti sono questi Non sono questi In Europa è una cosa In campionato Un altro Anche l'applicazione Di alcuni giocatori Sembra superiore In Europa Sì Può essere Per una mentalità Confrontati diversamente Con giocatori diversi Squadri diversi Un torneo diverso Più Più facile Ma Non 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 giustifica Ecco Non giustifica Perché Sempre il pallone È sempre la maglia Quella Allora Qualunque sia Partita Anche un amichevole La fronte Va affrontata Con le stesse impegni Stessa determinazione Stessa voglia Purtroppo Non succede Non ho perché Non vuoi vado Però Sono motivazioni Che qualcuno trovi Altri no Purtroppo è così Cesar In queste partite C'è bisogno Anche però Di tanta personalità No Al di là Di Delle polemiche estive La fascia di capitano Eccetera Però forse In questi momenti Nei momenti così difficili Dove non hai obiettivo E dove rischi le figuracce Penso al campionato Si vede Maggiormente Chi quella personalità Ce l'ha No Si vede nei momenti difficili Perché quando si vince È facile Andare a fare Un'intervista È facile andare sotto Sotto il settore ospiti Eccetera E io personalmente Vedo Al di là del rendimento Un Luca Sbiglia Che in questo momento È il leader assoluto Della squadra Ti chiedo Se hai la stessa Sensazione E quali sono i giocatori Dai quali è giusto Attendersi più personalità Aspetta Ma tu ce la fai Ricordarti la domanda Fra un minuto Che devo mandare la pubblicità Come no È semplicissimo Si parla di Per un secondo Vabbè tu pensaci Basta che te la ricordi Fra un minuto No non c'è tanto da pensare Ma tu te la scordi Perché sei un po' bollito Aspettami No ma me la scordo No perché manca Questo all'altro Quello che manca Si vede da fuori Allora vediamo Se Cesaretto Ricorda ancora La domanda di Davide Cesar Chiamo aiuto da casa 50-50 Si parlava di personalità No no mi ricordo benissimo Parlava di personalità Caracchi In momenti difficili E purtroppo Quello che manca Sicuramente ovvio Da questi giocatori qua Come stesso che andrebbe A prescindere dalla faccia Come ha detto Però io non la vedo Tanto così a prescindere Poi è un tasso Che a me dispiace tanto Perché so cosa è successo So cosa è passato E come l'avevi Comunque Comunque penso che La personalità Nei momenti difficili La Ma Deve essere abile A uno A Quando Nei momenti difficili Disporsi A A Cercare di stimolare A cercare di Dare fiducia A cercare di aiutarsi Con i modi giusti Perché spesso Quest'area Di Non successi Di situazioni difficili C'è anche Un po' Nervosismo Un po' Di No Di scontettezza Per chi gioca di più Chi gioca di meno La squadra non gira Tutti questi discorsi qua Allora Deve essere abbastanzato E purtroppo È così Però penso che Nel stesso Biglia Nel stesso Close Anche se gioco Se non gioco Comunque un giocatore Che C'ha esperienza Da 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 dare Sicuramente La tranquillità La serenità È il stesso Ecco Andreeva Giocatori comunque Con esperienze mondiali Giocatori Con caratteri Comunque Che vediamo Che sono Lì in campo Qualcuno In un modo Qualcuno Nell'altro Però Su questo Questo è il stesso Marchetti Si giocherà O che non lo so Però Sono giocatori Che comunque Mi piace tanto In questo momento Che sono Tante 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 partite Parliamo 12 12-15 Partite Più o meno Che Conco Sta a giocare Bene Che è tornato A esprimersi A certi A livelli Di Una volta Dopo tanti Problemi fisici Esclusioni Cose varie E Penso che in questo Momento qua È fondamentale È fondamentale La personalità Cercare di Tener rispetto Il gruppo E far capire Che ognuno Di loro Devono dare Tanto Tanto Di più Che Riuscire A Andare Nel svolto Nel stagione E anche Passare Questo turno Di Europa League Si parla Del futuro Di Pioli Che idea Si è fatto Cesar Sulla gestione Di Pioli Perché Lo scorso anno È stato Il protagonista Indiscusso Quest'anno È stato Sempre Molto contestato Ma Non può Un allenatore Essere Fenomeno Un anno Ed essere Totalmente Incapace L'anno successivo No? Sono d'accordissimo Sicuramente Sono stati Fatti Di errore Sicuramente Tutti Devono dare Di più Perché La roba Non gira Come Nel anno Precedente Però Come sappiamo Benissimo Nel calcio Il primo A pagare È un mister Non credo Accada con lui Spero di no Perché ha dimostrato Di Sare Lavorare Che può Dare Tanto Ancora Per La Lazio Ma Comunque Il corto Deve Sì Cambiata Cambiata Nella mentalità O Nel modo Di fare I giocatori Che capiscono Che le cose Che sono state fatte Ormai Sono passate Se non Le fai Succede Quello Che sta Succedendo Adesso Speriamo Solo Che In un modo Nell'altro La Lazio Riesca a trovare Il suo equilibrio Una sua Dimensione Per cercare Di prendere La strada Giusta Che è quella Che abbiamo Visto Per un bel Po Nel anno Scorsi Oggi Proprio Oggi Si fa il nome Di Il possibile Nome Di Sinisa Mihajlovic Sulla panchina Della Lazio Eh Guarda Non lo so Non è L'unica cosa Impossibile Qua Si parli Di ingaggio Cioè tu dici Dipende da quanto Chiede No 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 Basta vedere Quello Che è Un uomo Che oggi È ingaggiato Dal Milan Però A parte Che Sicuramente Ha una carattere Una persona È diversa Di Pioli Ma Ancora C'è tempo Ancora C'è Penso che Le cose Possono riprendere La strada Giusta Perché Mancano Delle partite Importanti La Lazio Deve comunque Cercare di andare A Europa Ancora Anche in Campionato E Mantenersi Lì Per Poter Anche per L'anno prossimo Organizzarsi meglio E fare delle scelte Anche a livello Di Rosa A livello Di giocatori Per Una Programmazione Diversa Ecco Però Speriamo Sempre bene Speriamo sempre La Lazio Riesa A tornare A se livelli Ecco Ultima nota Dolente Il rapporto Con i tifosi Sono sempre di più Quelli che stanno Abbandonando allo stadio Adesso non è più Un discorso di curva Ma Insomma Si è esteso Anche agli altri settori Che Pian piano Si stanno svuotando Quindi anche Il tifoso Non organizzato Il tifoso Non ultras Che ha di fatto Interrotto Qualsiasi tipo Di No Di sentimento Non lo voglio dire Perché poi magari Si soffre anche A stare lontano Se si parla della Lazio Qui non parli della Lazio Colori Maglia Qui parli dei rapporti Tra chi la divisi Tra chi la Ha 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 Un'interno Di gestione Della società Tutto qua No No Purtroppo È Che è arrivato Prima Che è arrivato Dopo Purtroppo Purtroppo Poi è sempre La curva Divisi Curve Qual è il senso Qual è Mi spieghi Dove Succede Su tutti i settori Delle stadi Che non si mettono Al posto Da tutte le parti Ma anche In tribunale 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 Magari Magari Allora si cambia tutto Si cambia tutto Si cambia tutto Le leggi Le strutture E allora Allora Uno A semane Disci Allora Siamo nelle strade giuste Non per convenienza Su certi momenti Per Dispetto Le picche Di situazioni Su cese E cose Vare E purtroppo Alla fine È quello È quello Poi la gestione È quella che è Tanti passaggi Comunque Fatti per bene Tanti altri no La situazione Ora Che non è Non è positiva Ma per niente E Che è arrivato prima Che è arrivato Arrivato prima Perché qualcuno Ognuno di noi Pensa in un modo suo E' uno di noi Percefici Certe cose E' un'opinione Ma qui si parla Soltanto Di una situazione Di gestione Non si parla Della maglia Delle colori Perché la Lazio Rimarrà sempre La Lazio Piunque sia Passerà sempre La Lazio Rimarrà sempre Da quello che Stai dicendo Non mi sembra Cioè Sembra quasi Che tu In un modo O un altro Te l'aspettassi Che poi si potesse Arrivare A questo punto Eh io Tornirei nel tempo Quando sono andato Via Della Lazio Tornirei nel tempo Di Di A prima volta Che sono stato Contestato A Fiugi A Termilina Scusa Perché volevo Andare via Perché Ho dimostrato Sempre la mia Non buona volontà Di rimanere Ma questo Parlo perché Intanto Non è che mi cambia Cioè Ma per fare capire E mi ricordo In quel periodo lì Che ho sentito Dei discorsi Che ho detto Alza e mani Un po' Non ci vuole stare Alza e mani Alza e mani Alza e mani Perché non ci vuole stare A costo Giustamente Perché uno Poi si trova In una condizione Di prendersi Di responsabilità E sì Io voglio andare via Perché Non vuole C'è una cosa E ecco Sono salito Di passaggi importanti Dove la Lazio Ha fatto anche bene Però Questo Asso Questa Questa gestione Questo rapporto Perché Per quanto Possiamo Parlare Di risultati È ovvio Che il rapporto Diventa più Cordiale Più Più Bello Anche Quando le cose Vanno bene E questo è Dappertutto Non solo Con la Lazio È dappertutto Però Quando c'è Questo stacco Proprio Tra società Di società Di dirigenza Che lo sappiamo Che è così E la La tifoseria Sia di una parte Sia dell'altra E questo va nel tempo Ecco quello che succede Ora Come è detto Anche il tifoso Quello Che va lì Compra il suo Biglietto Va a vedere una partita Che non è abbonato O che Delle partite Si fa o no Oppure quello che è abbonato Oggi Non è perché Perché poi Si accurva 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 sì Perché la curva È l'accurdo Poi ci sono Tifosi Tifosi Che Per Vedere una partita Preferiscono stare In altri Spazi E così lo fanno Però La mentalità Poi Dopo si arriva Dopo le opinioni Si formano comunque Certo A prescindere Del posto Dove tu ti metti Per siedere A guardare la partita Non è che Io vedo Grazie a mente Da te Dopo tante cose Tante cose Cioè Allora Però Purtroppo E questo è un dato di fatto Purtroppo Si è arrivato a questo punto È nominato Fuggi Mi ricordo Allora Questa la racconto No? Perché c'era Lotito che trattava Il contratto Con Con Cesar Entro nell'albergo Di Fuggi E loro erano seduti Appena entrati Su un Tavolinetto Piccolo piccolo Sulla destra Proprio nella hall Cioè Della serie Così ne vede nessuno E c'era Un passato Te lo ricordi? Ma è stato Un sequestro Di persone Quante ore? No non me lo ricordo Quante ore Io so che è stata Una cosa infinita Io sono arrivata Che trattavate E poi A otto ore A otto ore Perché poi dopo Sì sì Non sono andato A fare l'allenamento Non esiste proprio Cioè Impensabile Io ero andata Non sono andata Neanch'io a vedere L'allenamento Quindi loro Continuavano lì Perché Mi era stato chiesto Di restare lì Perché il presidente L'ho dito Mi aveva detto Di aspettarlo Perché mi doveva dire Una cosa Che poi riguardava Serena Che riguardava Sereni Perché Sereni Un po' era Nella stessa situazione E Si alza l'otito Vi fa Tutto Dico Beh come è andata Tutto a posto Tutto a posto Firma Allora poi io vado Da Cesar No? Dico Ah Cesare Allora tutto a posto Dice A parte che sembravi Io a un certo punto Smesso di capirlo Sembrava Gasperino Il Carbonaro Te lo ricordi Mi ha detto Quello del Marchese Del Grillo E poi ha detto Non è a posto Manco per niente No Infatti Lo così è stato Come tante volte Che dici A posto a posto E così stanno Come stanno E Allora Era già così Eh va bene No invece no Cosa? No invece Non va bene No non va bene Non va bene Cesare Non va bene Manco un po' Comunque Intanto domani C'è la partita Poi penseremo A come Poter andare a Avanti in questa situazione Che Per il momento Resta in piedi Dalla Coppa Quindi noi dovremmo fare I discorsi giorno per giorno Domani c'è un obiettivo Poi ci sarà la gara di ritorno L'obiettivo è il superamento Del turno Andare più avanti In Coppa Perché risolverebbe Un sacco Un sacco di cose Faciliterebbe Tanti dialoghi Per la stagione prossima Con i giocatori Per trattenerli O per trattarne Di altri E quindi Questo è ogni appuntamento Importante Poi tireremo Le somme E io e te Ci risentiremo Se avrai la bontà Di rispondermi Ok No cioè Ti sto dicendo Che devi rispondere È stufato Capito Ok Infatti Ti ho detto ok Ah vedi Si è sentito in colpa No che colpa Ok Chiama Mi vedrai Se ti rispondo No è scherzo No ci mancherebbe Dai Bacioni a tutti Ancambra Infatti Infatti Non è niente Infatti Non è niente Contro La radio Contro È proprio personale Contro de me No è proprio Contro de me Brava Ah si ma io l'ho capito Però vedi Prima o poi ti convinco Gente Va bene Un abbraccio a voi Sempre Comunque Forza Lazio Un abbraccio a tutti Grazie Buona serata Baci a Ambra E al piccolo Grazie a voi Ciao ciao Ciao